A Fano invece ha preso il via oggi la fiera di San Bartolomeo, il tradizionale appuntamento della tarda estate fanese. Anche quest'anno vede protagonisti oltre 200 espositori provenienti da tutta Italia. Ma allora andiamoci a collegare con la fiera, con il lungomare Sassonia, dove c'è Marco Ferri. Marco buonasera, allora com'è andata questa prima giornata? Sì buonasera, dunque questa prima giornata si è aperta all'insegna del maltempo perché questa mattina qui a Fano è piovuto e pare che si concluderà con il maltempo perché sta arrivando brutto tempo. Adesso bisognerà vedere nelle prossime ore che cosa accadrà, qui attorno comunque nell'entroterra già sta piovendo. Per il resto sì c'è una discreta affluenza di pubblico, ci sono anche i bagnanti, quelli che non hanno potuto approfittare del bel tempo per il mare e dunque si sono riversati qui in Viale Adriatico e Viale Dante Alighieri. Sono 240 gli espositori che quest'anno hanno aperto le loro bancarelle, sono 240, la maggior parte ovviamente qui lungo Viale Adriatico e nella parallela Viale Dante Alighieri. È una fiera antica, una fiera molto antica perché risale al 1458 e a proposito di pioggia sta arrivando giusto in tempo, stanno scendendo le prime gocce quindi le abbiamo in qualche modo chiamate. Dicevo è una fiera molto antica, risale al 1458, ci sono qua vicino anche i venditori di aglio e di cipolle che sono praticamente i commercianti più antichi, quelli che ci sono da più di 500 anni qui nella fiera di San Bartolomeo a Fano. Abbiamo fatto un giro prima di questo collegamento tra le bancarelle per sapere e sentire un po' gli umori, i pareri degli avventori. Sentiamo com'è andato. Come vanno gli affari? Vanno abbastanza bene, diciamo che la fiera è partita un po' tale perché stamattina pioveva, comunque va abbastanza bene. Speriamo che continui così. Posso chiederle che cosa ha comprato la fiera? No, i mocio, vede? Solo per lavorare. Ma si fanno affari o no alla fiera? Non lo so, non lo so, io non ci vengo mai, la prima volta guarda. Come vanno gli affari? Per essere il primo giorno va bene, non ci lamentiamo. Signora che cosa ha comprato? Di tutto, la fiera si compra tutto, no? Giusto? Ma si fanno ancora affari la fiera? Sì, 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 almeno spero di averli fatti. Ha girato un po' oppure? Certo, l'ha girata tutta, è un classico, la fiera si gira. Non ti hanno preso niente la fiera? No. No, ancora. Come mai non hanno preso niente? Ancora no, ora lo prenderemo. Un regalino per lui e un regalino per quest'altro bimbo. Sì, una curiosità, prima di salutarvi, poco fa abbiamo incontrato anche Davide Rossi, esponente politico del quale si sta parlando in questi giorni. Con Rossi abbiamo scambiato due battute, ci ha detto che non voleva rilasciare dichiarazioni, che lo farà tra qualche giorno, quando le acque abbastanza agitate nel mondo politico locale si saranno calmate. E poi ci ha detto che in questi minuti si sta tenendo in comune una riunione di maggioranza. Tornando alla fiera, si terrà ancora e durerà fino a mercoledì, sarà aperta dalle 7 del mattino fino alle 24. E qui da Via L'Adriatico è tutto. Bene, grazie a Marco Ferri. In occasione della fiera di San Bartolomeo, Adriabus ha prorogato il servizio naveta della linea 135 Marotta-Torrette-Fano nelle ore notturne. Gli orari che vedete in sovraimpressione li troverete sia esposti alle varie fermate che nel nostro sito occhioallanotizia.it.